La pandemia da Covid non ha permesso quest'anno di presentare dal vivo il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri edizione 2021 nell'ambito della consueta manifestazione. Tuttavia sabato mattina a Roma il comandante generale, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri e a Ferrara il comandante provinciale dell'Arma e il colonnello Gabriele Stifanelli hanno voluto svelare al pubblico l'ormai atteso prodotto editoriale. Per il calendario storico del 2021 l'Arma dei Carabinieri si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi e alle tavole realizzate da un esponente della transavanguardia italiana Francesco Clemente. Le storie ispirate da episodi di vita vissuta e le immagini raffiguranti simboli e elementi dei carabinieri si sposano e dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più piccoli il coraggio di una vita di valore facendo inoltre da contrapunto alle terzine della divina commedia di Dante Alighieri e celebrarne così il settecentesimo anniversario della scomparsa. Più di un milione le copie stampate, di cui circa 10.000 in lingue straniere. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del calendario, giunta alla sua ottantunesima edizione dopo l'interruzione post bellica dal 1945 al 1949, venne ripresa regolarmente nel 1950 ed allora è stata puntuale interprete con le sue tavole delle vicende dell'arma e attraverso di essa della storia d'Italia. Oltre al calendario è stato pubblicato anche l'edizione 2021 dell'Agenda e centrata sul tema Pinocchio e i Carabinieri, altre due opere completano l'offerta editoriale il calendario da tavola e il planning da tavolo dedicato al centocinquantesimo anniversario di Roma Capitale e alle altre capitali d'Italia. L'intero ricavato della vendita di questo planning verrà devoluto all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, una delle più antiche istituzioni dedicate all'infanzia.